bentornati a lampi di tesla oggi cominciamo dalla giga nevada la giga nevada è una fabbrica enorme che tesla condivide con panasonic dove però non si producono auto ma si producono solo batterie soprattutto per quanto riguarda la parte panasonic e powertrain quindi i motori che poi vanno nelle auto tesla ora qual è la notizia è che attualmente ve lo faccio vedere in questa foto la parte in rosso è la parte usata da tesla la parte in blu quella con le lettere bc di e primo e di primo è la parte usata da panasonic ora c'è una collaborazione nonostante comunque le due fabbriche siano effettivamente separate ora tesla sta costruendo un altro quadrato quello marcato con c primo sempre di panasonic che andrà ad ampliare ulteriormente la produzione di batterie non sappiamo ancora se sarà per le 46 80 o per le 21 70 o lfp non si sa la cosa molto interessante è che se guardate la parte gialla quello è il progetto finale di tutta la giga nevada e se guardate in fondo a destra c'è scritto raw materials quindi i diciamo i materiali grezzi che entrano poi c'è la prima parte che è il cell manufacturing cioè dove verranno effettivamente costruite le batterie e la parte più a sinistra cioè dove adesso ci sono le parti evidenziate in rosso di tesla c'è scritto future manufacturing quindi qualcosa che verrà in futuro ecco rendiamoci conto delle incredibili potenzialità di questa fabbrica veramente secondo me impressionante questa doveva essere già dall'inizio l'edificio più grosso l'edificio coperto più grosso degli stati uniti io credo che da progetto sia ancora così anche se la giga texas probabilmente in volume è più grosso perché la giga texas oltre a essere molto estesa è anche alta sono quattro piani veramente impressionante seconda notizia di oggi riguarda i prezzi c'è stato un rumor la settimana scorsa che parlava di abbassamento di prezzi soprattutto di model y in cina per carenza di domanda questo è legato al fatto che tesla a fine trimestre ha accorciato ovviamente i tempi di consegna perché produceva consegnava e quindi chi non è preparato sull'argomento ha pensato subito che ci fosse carenza di domanda effettivamente non è così perché appena finito il trimestre i tempi di attesa sono tornati esattamente come erano prima quindi tra le 4 le 8 settimane e quindi mi spiace però non è previsto nessun calo di prezzi né in cina né in europa né negli stati uniti soprattutto con la domanda che rimane comunque altissima anzi io dico ormai da quando è uscita la model y a trazione posteriore che a un certo punto tesla ne alzerà il prezzo per renderlo uguale se non superiore alla model 3 a trazione posteriore le notizie di oggi sono finite ma ci tengo a fare due precisazioni la prima riguarda i numeri del terzo trimestre 2022 di cui abbiamo parlato nella puntata di ieri perché oggi ho letto alcune notizie un po così mi hanno lasciato veramente basito in particolare notizie che recitavano sia italiane che estere delusione tesla nel terzo trimestre delusione ha fatto record di vendite record di produzione e poi io capisco che magari i giornalisti ovviamente non seguono solo tesla e quindi vedono la notizia e vogliono riportarla però anche una persona che non è proprio dentro il mondo tesla se nel primo trimestre ha prodotto 310 nel secondo 270 e nel terzo 370 come fa a essere deludente non lo so non riesco a capire e poi tra l'altro la differenza tra il prodotto e il venduto che ha particolarmente consistente parliamo di 22 mila e crisi domanda nessuno più vuole le tesla se non le vuole nessuno io le prendo volentieri però il concetto qual è l'abbiamo detto anche ieri siamo in una situazione dove il costo e i tempi dei trasporti sono diventati due fattori difficoltosi e tesla non è immune purtroppo anzi anzi ha fatto un gran lavoro perché riuscita comunque a consegnare un gran numero di macchine però è stata letta al contrario cioè che tesla non è riuscita a vendere tutto quello che ha prodotto ma non vedo assolutamente il problema e vedremo infatti nel q4 che sicuramente rivenderà tutto quello che ha accumulato questo trimestre e venderà anche tutto quello che avrà prodotto nel nell'ultimo trimestre l'anno quindi io leggo così la notizia poi se leggete in giro cose strane mi spiace per loro seconda precisazione invece riguarda lei ai dei questa ovviamente non mi stupisce perché perché lei ai dei è stato un evento organizzato per esattamente come la prima edizione per reclutare talenti ingegneri brillanti e non è stato un evento organizzato né per la stampa né per gli investitori né per gli analisti infatti sono stati due eventi estremamente tecnici e questo l'abbiamo detto sia a premessa che nel riassunto che ho fatto un paio di giorni fa anche in questo caso ho letto che la critica è stata particolarmente feroce rispetto alla presentazione del tesla bot che a malapena è riuscito a camminare sul palco ecco questo denota una profonda disinformazione di quello che è stato presentato e di quelli che erano gli obiettivi e di quelli che sono gli obiettivi del tesla bot come per autopilot come per dojo che non sono minimamente stati compresi questo è quanto è ripeto contenti loro spero che chi davvero capisce quello che è stato presentato riesca davvero a farlo proprio ea comprenderne il significato perché non va guardato con gli occhi di oggi ma va guardato con gli occhi che vanno in là nel futuro nella prossima decade questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao